Vediamo come sarà articolata la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che vede la direzione artistica di Amadeus in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio 2020 in diretta dal Teatro Ariston. Il festival è strutturato in cinque serate. Gli artisti e le relative canzoni saranno suddivisi in due sezioni, campioni e nuove proposte. La prima serata, martedì 4 febbraio, si alzerà il sipario sul palco dell'Ariston e verranno eseguite 12 canzoni in gara della sezione campioni e 4 canzoni delle nuove proposte. La seconda serata, mercoledì 5 febbraio, esecuzione delle altre 12 canzoni in gara della sezione campioni, esecuzione delle altre 4 canzoni in gara delle nuove proposte. Terza serata, giovedì 6 febbraio, Sanremo 70, esecuzione da parte dei 24 campioni di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del festival. Gli artisti potranno scegliere di esibirsi insieme agli ospiti italiani o stranieri. Ci sarà l'interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione nuove proposte. La quarta serata, venerdì 7 febbraio, esecuzione delle 24 canzoni in gara dei campioni, osservanza delle due canzoni rimaste in competizione delle nuove proposte. Al termine della serata verrà proclamata la canzone artista vincitrice delle nuove proposte. Quinta serata e serata finale, sabato 8 febbraio, esecuzione delle 24 canzoni in competizione dei campioni. Al termine della serata verrà proclamata la canzone artista vincitrice della sezione campioni.